In rete, Razzolini, Diaz, Lico e Gnisci è infatti un poker quello carato dall'Arezzo Calcio Femminile che sul campo del Tavagnacco ha battuto le padrone di casa per 4-0. Nel secondo tempo probabilmente abbiamo cercato di più di giocare in ampiezza per andare ad attaccare la profondità però devo dire la squadra ha fatto una bellissima partita dal primo minuto di gioco e quindi sono molto contenta delle ragazze, credo sia stata la nostra miglior partita da inizio di quando ci sono e quindi faccio i complimenti alle ragazze. È importante secondo me per tutte le squadre principalmente perché primavera si deve formare i giovani per la prima squadra e secondo me noi ci siamo riusciti con questo intento in questa società e devo fare gli auguri e anche complimenti a un'altra entrata che ha esordito, Penny Torres 2007 ed è entrata benissimo quindi sono contentissima di lei, le altre ragazze che sono entrate comunque giovani ormai sono collaudate con questa squadra ma devo fare anche i complimenti alle ragazze tra virgolette più veterane perché hanno accolto queste ragazze giovani in maniera splendida quindi complimenti a tutto il gruppo. L'appuntamento adesso è per domenica prossima al comunale di Arezzo quando arriverà la rivelazione del campionato Cesena ancora in lotta per un posto al sole in Serie A. Cercherà di fare punti possibili perché come avevo detto in precedenza la salvezza è stata raggiunta ora l'obiettivo è cercare di fare altri sei punti.